Idea Web con Maurizio Libois, ideatore dello Smile Volley Camp di Artesina. Un camp arrivato alla 14esima edizione. Maurizio, per iniziare, 14esima edizione da record. Buonasera, sì. Diciamo che quest'anno abbiamo raggiunto dei numeri non aspettati perché in due settimane facciamo passare 205 iscritti e per noi è fonte di enorme orgoglio in due settimane. Sì, un camp, dicevamo, che inizia ad essere quello più longevole della provincia di Cuneo e che negli ultimi due anni ha fatto un salto di qualità notevole anche grazie alla collaborazione con l'LPM per lavoro Mondovì che è riuscito a darvi anche a livello organizzativo una spinta in più. Abbiamo iniziato nel 2008 un po' per gioco, poi ogni anno siamo cresciuti, ci siamo evoluti, ogni anno abbiamo migliorato qualcosa e poi l'ultimo grosso salto di qualità è stato l'anno scorso quando si è creata questa partnership con la società LPM Mondovì di serie A femminile e ci ha permesso a livello organizzativo ovviamente di proporre un prodotto che in questo momento qua è nettamente migliore rispetto ai primi anni, questo di sicuro. Una voce per voi molto importante è sicuramente la parte tecnica con referenti dei progetti sia maschili che femminili di qualità portati durante gli anni, ultimi ma solamente in ordine di tempo Marco Bracci e Roberto Serniotti che a loro volta hanno scelto per il secondo anno consecutivo di tornare segno che anche per loro la parte, lo smile è un progetto interessante. La nostra peculiarità è stata quella di avere un referente tecnico di alto livello abbiamo sempre cercato di alzare l'astina ogni anno l'anno scorso è iniziata questa collaborazione con Robi Serniotti per il settore maschile per Marco Bracci per il femminile e per noi è stato un enorme orgoglio sapere che quest'inverno è bastata una telefonata di saluti per sentirsi dire che sarebbero venuti ben volentieri su anche quest'anno pur sapendo che l'impegno è raddoppiato e infatti quest'anno con due settimane entrambi hanno deciso di confermare la collaborazione con noi e noi non potevamo chiedere niente di meglio. Un'ultima domanda, un po' di numeri, come si svolgono le giornate di attività allo Smile Volley Camp? 208 iscritti, 9 campi all'aperto montati, 2 palazzetti usati, 15 persone di staff che aiutano e stanno sotto le direttive di Robi Serniotti e Marco Bracci 6 pulmini, 6-8 ore di allenamento per tutti quanti questi sono un po' i numeri assuntivi di quello che noi impegniamo per il camp non è una settimana di camp che può cambiare il livello tempo di un giocatore ma sicuramente è un'esperienza che per un atleta maschio o femmine da 11 a 7 anni può sicuramente arricchire e dare una mano nel percorso sportivo del ragazzo o della ragazza. Grazie mille! Grazie a te!